24 ore di fuoco in Calabria. Dalle due passate di questa notte infatti, un grosso incendio si è sviluppato a Praia Mare nella zona dell'ex Marlane. Le fiamme, in alcune situazioni, hanno raggiunto le case. Queste le immagini che si riferiscono a Scalea, girate da Cal News, di Luigi Salsini. Nella notte le fiamme hanno circondato il ponte di San Nicola Arcella, richiedendo numerosi vigili del fuoco. Questa mattina, di supporto, alle squadre di terra, richiesto ausilio di un mezzo aereo. Le immagini che state vedendo, sono state pubblicate da Infopinione di Andrea Polizzo. Nel pomeriggio di giovedì altro incendio si è sviluppato tra Tortore e Maratea, precisamente verso Castrocucco.